Come possiamo distinguere i sessi, cioè il maschio femminile? Ci vuole molta esperienza. E tante volte non basta neanche questa. Diciamo che nei soggetti ancestrali e nei soggetti di tipo Agatha, ancora prima che i soggetti facciano la prima muta, in base alla carica di colore scuro e di melanina attorno agli occhi, si può stimare il senso. Ci sono i soggetti molto diluiti, questa stima non è possibile fare. Perché non ci si può fermare davanti al fatto della struttura o della forma. È troppo poco per poter dire il maschio femminile. Quando non c'è un disegno sul cardellino è difficile dire se sono il maschio femminile. Dopo mutati, invece, la cosa è molto più facile. Ora facciamo un passo indietro, in base alla mutazione. le domande del polivo un soggetto albino potrebbe essere copiato come un soggetto bianco si può essere copiato di fatto l'albino l'albino è completamente esente dall'eumelanina ed è esente di eumelanina anche nell'occhio, nella pupilla invece così non si può dire dal soggetto bianco ad occhi neri e quindi si può copiare ma io ho un accoppiamento che non farei mai perché ad entrambi ad entrambi cercherai di dare dei soggetti ancestrali in modo da mantenere il ceppo più robusto il riso è il maghieno sia il solito che non è il più efrost o più efrost il risultato di questo accoppiamento ci troviamo di fronte a due fattori recessivi quindi se lui prende un soggetto albino è una femmina bianca ad occhi neri o viceversa un maschio ad occhi neri e una femmina bianca ad occhi neri nasceranno tutti i soggetti colore ancestrali cioè non nascerà neanche un bianco però saranno tutti portatori ma tutto ci sarà fuori di albino e di albino e di albino grazie 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 ma ci sono dei libri senz'altro io potrei consigliarvi il libro di alcedo però generalmente i libri si basano e si esprimono in maniera più scientifica e quindi forse non sempre alla portata di tutti gli allevatori questo non è impossibile tutti i soggetti non èvano così la broscia queste incontri ci danno la possibilità di parlare all'interno della destra in maniera semplice abbiamo un'esperienza di aUR ma si parliamo di aU un'archeologo che è stata nel vero indietro da un'orario che si è iniziata è un metallo? No. Non. Non. Cosa potrebbe essere? Ad uno sbilanciamento nel suo fisico, dovuto probabilmente ad un momento di malessere, ad un momento di carenza, di carenza, o alimentare o di carenza di ortollare. Ci sono, a proposito di questo, cosa succede? A me è successo già. Abbiamo visto l'idea. In forma di milanismo che appagiano il primo anno, ad esempio, non si più maggiore da nido. Non però in questo terro, in cui si tratta. Quando fanno la prima muta? Quando fanno la prima muta? Succede completamente neri. Abbiamo scegliato che sono completamente mavra. Quattro o cinque scegliati che ho avuto in quantità di quattro o cinque scegliati nell'arco della mia vita di elevatore. Scegliato che ho avuto 3-4-5 in cui si tratta. L'anno dopo, quando non fanno la muta, quando si tratta, quando si tratta, sono tornati normali. e se ci rimane anche dopo la seconda muta, è un'imperiore. E' un'imperiore. E' un'imperiore. E' un'imperiore. E' un'imperiore. 為' per la seconda muta? E' un'imperiore. Beh, allora se rimane anche dopo la seconda muta la cosa diventa interessata. Vi chove li''ette onini da quattro o cinque scegliati. Allora non resta altro che provare ad accoppiare il soggetto e vedere se dà origine a dei soggetti simili perché la mutazione è mutazione quando si può trasferire il gene alla prova magari in forma nascosta o in forma evidente la mutazione è recessiva e se è recessiva bisogna lavorare due anni mentre se dominante se è più semplice se è più semplice grazie 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 grazie